Buona la prima mi sento di dire a proposito di Donald Trump, pensando infatti che il nuovo presidente di recente avrebbe approvato la proposta di un cessate il fuoco in territorio libanese, in Libano ci troviamo ovviamente in Medio Oriente. Hamas avrebbe dichiarato ora bisogna fare pressione su Israele anche per quanto riguarda Gaza. Insomma arrivano i primi spiragli, le prime direttive da parte del nuovo presidente Donald Trump, presidente degli Stati Uniti America per quanto riguarda questa guerra maledetta e schifosa in Medio Oriente che ormai da secoli c'è, Palestina contro Israele, Israele contro Palestina. Ma in questo caso il stesso Trump avrebbe approvato la proposta di un cessate il fuoco in territorio libanese. Va bene, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, è un primo passo questo va detto, per quelli che dicono e pensano che Donald Trump sia belligerante, uno che si che voglia la guerra, io dico vi sbagliate perché non è così, Trump forse è uno dei pochi che non vuole la guerra in Medio Oriente. Bene, una buona sera da voi, dal vostro narratore italiano di YouTube Italia e ciao a tutti.